La casa di riposo degli orrori di Sandona di Piave, pene ridotte rispetto alle richieste della procura per gli operatori socio-sanitali accusati di violenze e maltrattamenti a danno degli anziani. A Marghera è arrestato spacciatore trovato con 60 dosi di droga nascosta tra le guance. Qui la gente vive prigioniera in casa, dicono, tra spacciatori e siringa il nostro reportage. I carabinieri di Santo Stefano di Cadore hanno individuato il presunto autore del danneggiamento all'autovelox di via Udine nel luogo esatto della strage dello scorso luglio. Lavoro precario, stipendi bassi, l'allarme sull'occupazione disponibile oggi nel veneziano è lanciato dalla CGL, nelle nuove assunzioni solo un contratto su 10 e a tempo indeterminato. A Mestra e Marghera, più di un residente su quattro non è italiano, le scelte economiche della città hanno portato a un'immigrazione disposta a lavori di bassa retribuzione. La crisi del Mar Rosso irrompe in Veneto e minaccia Superjet a rischio il futuro dei dipendenti dell'azienda dell'aerospazio veneziana. L'astrofisico sandonatese Luca Costantin, che ha scoperto di recente una nuova galassia, oggi è tornato nel suo ex liceo per incontrare gli studenti. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali in primo piano. La vicenda della casa di riposo degli orrori di San Donati Piave, pene ridotte rispetto alle richieste della procura per gli operatori sociosanitari accusati di violenze e maltrattamenti a danno degli anziani. A quasi un anno di distanza dallo scandalo scoppiato qui nella casa di riposo monumento ai caduti di San Donati Piave, ribattezzata a casa degli orrori, la sentenza nell'aula bunker di Mestre ha lasciato i parenti senza parole. Così non è giusto, dicono. Dopo quattro udienze e oltre tre ore e mezza di Camera di Consiglio, la sentenza di condanna infatti ha visto una riduzione sensibile rispetto alle richieste avanzate dal PM, che ammontavano a 38 anni totali. I cinque operatori sociosanitari, che erano stati tutti licenziati, accusati dalla procura di Venezia di aver trasformato il reparto viola in una corsia degli orrori, tra ripetute violenze sessuali, offese, umiliazioni di vario genere, sono stati condannati. Caduta l'aggravante di aver causato la morte di una paziente come conseguenza di altro reato, le botte ricevute. Gli imputati hanno potuto godere dello sconto di un terzo della pena per la scelta del rito abbreviato. Sono otto, dodici quelli richiesti dalla procura, gli anni di reclusione inflitti a Barresi, l'operatore 54enne accusato, l'unico, di violenza sessuale nei confronti di sette anziane, riprese dalle telecamere. Sei anni, dieci e otto mesi invece quelli richiesti, a Danieli, cinque alla sua compagna e collega Badalamenti, per maltrattamenti ripetuti, con atti di violenza, sopraffazione fisica e psicologica, ingiurie e minacce. Infine, due anni e quattro mesi per Pollazzone e Rosiglioni. Sentenze che hanno aggiunto altro dolore a quello dei familiari, condiviso anche dall'Ulss4, costituitasi come parte civile insieme alla Regione, mentre il Comune ha chiesto un risarcimento pari a due euro a cittadino. Sarebbero state necessarie penne più pesanti, molto più pesanti, per dare un segnale, dare una risposta alle famiglie, anche se questo non restituisce il dolore che hanno provato. Però sicuramente le famiglie hanno ragione. Queste pene, rispetto a queste pene, ci si aspettava una decisione più coraggiosa da parte, diciamo, di chi aveva il compito di valutare e giudicare queste persone che hanno commesso dei reati che sono veramente riprovevoli. Ora la sentenza potrà essere appellata. Ci sarà una battaglia legale, penso che i parenti delle vittime la inizieranno a breve, sarà lunga, però come città abbiamo un obiettivo importante ora, di ripartire con questa casa di riposo, con la nuova struttura, il nuovo consiglio di amministrazione, nuove procedure, trasparenza. Questa è la parola d'ordine che io ho chiesto ai nuovi componenti del CDA e alle persone che lavorano. Trasparenza è quello che è mancato in questi anni. Ed ora vediamo il nostro sondaggio al quale vi chiediamo di rispondere con una chiamata gratuita ai numeri che vedete in sovraimpressione. È un tema dedicato alla città di Treviso per parlare di tram. Tram a Treviso, vi piace l'idea? Fate uno squillo ai numeri in sovraimpressione appunto per esprimere la vostra opinione. L'esito del sondaggio, come sempre, sarà reso noto nel corso di Ring in Onda questa sera a partire dalle 21. Continuiamo con la cronaca. Da Città Giardino a supermercato della droga a Marghera, arrestato spacciatore, trovato con 60 dosi di droga nascosti tra le guance. Qui la gente vive prigioniera nelle mura di casa, tra spacciatori e siringhe, dicono i residenti. Sentiamo il nostro reportage. Purtroppo non... non vengono più. Anche questa è Marghera. Le lacrime di Rubens nel nome di ricordi e persone che non ci sono più di speranze tradite, aspettative, oramai dimenticate, quelle di Ivana, residente di Marghera, che vive costantemente sotto assedio di tossici sbandati e criminali e per questo ci chiede tutela. Ti vedi che ho i sbarri su tutte le finestre? Sono in presenza, bene, essendo a piantare. In mezzo, tra Rubens e Ivana, un mare di siringhe, con le annesse palline di carta stagnola utilizzate dai tossici per consumare l'eroina e altri tipi di droghe. Sì, sette, otto, dica capio, non che se, do tre persone, che ne se tante. Anche se piove, anche se neve, io rivieno sempre. Dove stazionano, signora? Nell'angolo, là, vede dove c'è il cancello, si mettono là, o se no, anche qua davanti, non riesce a fare problemi. In pieno giorno? Piazzale Giovannacci, Marghera, da città giardino a supermercato di sostanze stupefacenti, è qui che le forze dell'ordine hanno arrestato uno spacciatore con 59 dosi di droga nascoste tra le guance, utilizzando la cosiddetta tecnica del criceto. Siamo a dei passi dal pericolosissimo sottopasso dell'orrore di via Rizzardi, con la statua della Madonnina, divenuta punto di riferimento di drogati criminali. Fu a retta che Madonna se parlasse quante robe che diria. Qui dovrebbe sorgere la nuova questura tra incognite progettuali e le uniche certezze, quelle di un terreno contaminato non soltanto dalle siringhe dei tossicodipendenti. Non è una risoluzione, perché come abbiamo visto, mentre la guardia qua si spostano 10 metri più in là. Oltretutto questa è anche area ex-sin, che vuol dire già area industriale per cui ha ben conosciuto cos'è il bicloruro di Mercurio. Non lo so, allargo le braccia e vedremo. I carabinieri di Santo Stefano di Cadore hanno individuato il presunto autore del danneggiamento all'autovelox di via Udine, compiuto la notte tra sabato e domenica scorsi, a pochi metri dal luogo della strage di luglio, nella quale persero la vita il piccolo Mattia Antoniello, due anni, il papà Marco e la nonna Maria Grazia Zuin di Favaro. Il gesto isolato ed estemporaneo di un giovane del posto durante una nottata, quella fra sabato e domenica scorsi, piuttosto movimentata per i residenti nelle vie immediatamente adiacenti alla piazza del paese. È un ragazzo di Santo Stefano di Cadore, il presunto autore del danneggiamento al box Prevelox in via Udine, la strada in cui lo scorso luglio morirono investiti Mattia Antoniello, il papà Marco e la nonna del bimbo Maria Grazia Zuin. Alla sua individuazione i carabinieri della stazione del comune del Comelico sono arrivati in meno di 48 ore di indagini medicolose. Ieri sera il giovane è stato convocato in caserma, non ha potuto far altro che ammettere la sua responsabilità che gli è costata la denuncia in stato di libertà per danneggiamento. Nessuna emulazione di un fenomeno né strategie o piani collegati ad azioni complesse precisa il comando provinciale dell'arma per specificare che sin da subito quel danneggiamento era parso qualcosa di decisamente scollegato dalle gesta di Fleximen. Le indagini puntigliose hanno chiarito i contorni della vicenda che aggiunge il colonnello Enrico Pigozzo sarebbe sbagliato indicare come una bravata. Chi pensa, e non è il caso di Santo Stefano, spiega il comandante dell'arma che distruggendo questi apparati si fa giustizia sociale non ricorda che l'analisi dell'incidentalità sul nostro territorio e gli esiti dei servizi svolti in diverse zone montane per contrastare chi usa le strade come fossero un autodromo dimostra che far rispettare i limiti di velocità dentro e fuori i centri urbani è un'azione che salva la vita delle persone. L'entrata in funzione della nuova autorità per la Laguna ridisegna le competenze sui temi di gestione ambientale come il Mose lo farà attraverso un percorso di semplificazione come ha spiegato il presidente Roberto Rossetto durante una doppia audizione in Parlamento. L'autorità incentiva un confronto tra soggetti che interagiscono poco ha detto va messa in atto una semplificazione va fatta e bisogna coordinare queste azioni. Lavoro precario e stipendi bassi è un vero e proprio allarme sull'occupazione di oggi nel veneziano quello lanciato dal CGL nelle nuove assunzioni solo un contratto su dieci è a tempo indeterminato. Venezia ha perso l'occasione del PNRR è stata una scelta politica quella di non investire in questo territorio di non fare le bonifiche a Porto Marghera di non attuare la ZLS invece servono queste scelte come serve anche costruire una nuova industria un'industria culturale che può essere un volano per Venezia e per tutto il Veneto. E' un atto d'accusa politico quello che parte dalla CGL alla luce dell'ultima ricerca sull'occupazione a Venezia dati riassumibili in pochi concetti lavoro precario stagionale e stipendi poveri i dati INPS confermano il peso preponderante dell'attività turistica che rappresenta quasi il 30% di tutti i dipendenti privati scelte imprenditoriali e politiche sostiene il segretario generale della CGL Venezia Daniele Giordano continuano a spostare il mercato del lavoro dal manufatturiero industriale ad un terziario fortemente indirizzato al turismo il tessuto economico produttivo della realtà di Venezia è profondamente cambiato è cambiato negli anni non solo per la monocultura turistica non solo di fronte al fatto che il turismo è quello che ruota attorno al turismo pensiamo alla ristorazione gli alloggi sono diventati i primi settori del nostro territorio ma anche perché emerge in modo chiaro la precarietà dilagante precarietà e bassi salari che riguardano in particolare le donne i contratti a tempo indeterminato sono solo il 10% mentre più della metà delle assunzioni anche nelle imprese di maggiori dimensioni sono per lavoro in somministrazione stagionale e a chiamata quello che chiediamo sono cambi di passo radicali alle istituzioni a Comune di Venezia e a Regione Veneto che non possono continuare a guardare da un'altra parte ma devono investire risorse risorse ingenti risorse nel territorio veneziano perché altrimenti Venezia è destinata ad essere un'economia precaria stagionale e sempre più povera Mestre e Marghera sono sempre più popolate da stranieri e sempre più povere più di un residente su quattro non è italiano secondo uno studio della fondazione Pellicani le scelte economiche della città hanno portato da un lato allo spopolamento e dall'altro ad un'immigrazione sempre più disposta a lavori a bassa retribuzione negli ultimi 20 anni la popolazione straniera residente nel comune di Venezia è aumentata in alcune zone del 400% in altre zone del 600% o dell'800% in due decenni il numero di stranieri residenti a Mestre è aumentato del 631% a Marghera dell'867% un record e come a Marghera anche a Mestre più di un residente su quattro è straniero in pochissimi anni grosse porzioni del comune di Venezia hanno completamente cambiato faccia se lo spopolamento della laguna è materia nota e ampiamente documentata la fuga di oltre 30.000 residenti registrata nell'entroterra veneziano durante l'ultimo decennio e i massicci arrivi dall'estero hanno trasformato profondamente la società a Mestre e a Marghera Maurizio Busacca è un ricercatore dell'Università di Ca' Foscari che ha compiuto lo studio per la fondazione Pellicani il fatto che in questa città i due principali mercati del lavoro siano quello del turismo e quello dell'industria determina una capacità di attrazione della città molto bassa e soprattutto di persone poco qualificate con poche competenze specialistiche e questo va a configurare uno scenario che non ci fa ben sperare per il futuro di questa città perché rischiamo di entrare in una spirale di progressivo impoverimento una città sempre più povera attrae un tipo di immigrazione sempre più povera come documentato dai dati di Veneto Lavoro l'appiattimento dell'economia cittadina ad una monocultura turistica capace di produrre prevalentemente posti di lavoro tra i facchini e i camerieri ha provocato a Mestra e Marghera fughe e arrivi di residenti con una rapidità impressionante e secondo i dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze reso Venezia il comune con il reddito pro capite più basso dell'intero nord-est oltre ad averne modificato nelle fondamenta il tessuto sociale il fatto che questo fenomeno sia limitatamente governato determina una determina una presenza di numerosi conflitti che poi noi vediamo quotidianamente nelle piazze quello che noi tendiamo spesso a chiamare degrado in realtà è la manifestazione di formi di conflitti di processi sociali che non sono governati linea alla regia ora per la pubblicità eccoci di nuovo in diretta TG di Venezia la crisi del Mar Rosso irrompe a Venezia e minaccia Superjet posti di lavoro a rischio la crisi del Mar Rosso irrompe in Veneto e minaccia Superjet azienda dell'aerospazio veneziana con a rischio il futuro delle famiglie che vi lavorano chiediamo che la situazione non resti diciamo nel limbo come è attuale siamo riusciti nonostante la crisi tra Russia e Ucraina a evitare la chiusura dell'azienda ma questo non basta sindacato che chiede al governo maggiore attenzione per mettere in sicurezza l'azienda sotto l'aspetto societario e farla diventare un punto importante di gestione c'è troppa incertezza c'è bisogno che il governo sciolga una serie di nodi diplomatici sicuramente molto delicati ma per dare a Superjet una proprietà certa degli equilibri sicuri e la possibilità di poter investire sul futuro questa è la principale richiesta che facciamo e se da una parte il ministro Crosetto chiama a raccolta i riservisti italiani per questa guerra ibrida dall'altra la preoccupazione per gli sviluppi della nostra economia specie dice il sindacalista per chi ha forniture elettroniche tecnologiche provenienti dall'estremo oriente il settore metameccanico non è in crisi c'è un certo rallentamento che rischia di essere accelerato appunto da questi venti di guerra dalle crisi che i commerci mondiali stanno avendo oggi ogni impresa lavora sul piano mondiale e questo riguarderebbe tutta l'Europa noi vogliamo sperare che la situazione diplomatica non porti a tracoli da questo punto di vista ulse 4 e veritas insieme per un innovativo progetto di welfare ed inclusione sociale per contrastare i disturbi alimentari ulse 4 e veritas hanno siglato un innovativo protocollo di intesa per due anni in un progetto di inclusione sociale e welfare aziendale è un protocollo che si occupa di poter da un lato inserire persone che hanno avuto problemi con disturbi alimentari però sottoposte al controllo in questo caso proprio dell'usle a dei percorsi inserimento lavorativo e dall'altra parte anche per avere noi un supporto e fornire quelle che sono ormai informazioni o addirittura supporti per chi lavora con noi già è una collaborazione fondamentale perché ci permette di portare alcuni messaggi più facilmente nei luoghi di lavoro e di renderlo in qualche modo parte di quel welfare aziendale dove ad esempio Veritas si sta impegnando peraltro il tipo di collaborazione non è solo finalizzato alla prevenzione di quello che può essere il disagio legato all'alimentazione ma permette anche di realizzare percorsi di riabilitazione attraverso inserimenti lavorativi o reinserimenti lavorativi Nello specifico Veritas distribuirà al proprio personale materiale informativo realizzato dall'Uls4 sulla corretta e sana alimentazione e sui disturbi del comportamento alimentare qualora venissero rilevate situazioni a rischio sarà effettuata in forma riservata la valutazione clinica e l'eventuale presa in carico di persone affette da disturbi dell'alimentazione e della nutrizione Restiamo a San Donati Piave perché l'astrofisico sandonatese Luca Costantin che ha scoperto di recente una galassia oggi è tornato nel suo ex liceo per incontrare gli studenti Sono tornato per incontrare gli studenti e un po' perché capiscano che si può cominciare con il liceo si può fare una carriera in astrofisica e si può lavorare in un centro di ricerca competitivo e continuare a fare ricerca di livello e ho un po' raccontato della scoperta della galassia che ho recentemente fatto e mi ha fatto enorme piacere poter condividere con loro questo momento e spero sia di ispirazione Ha scoperto una galassia non una qualunque ma una gemella della Via Lattea e oggi è tornato nel suo ex liceo il Galilei di San Donati Piave per parlare agli studenti della sua scoperta e della sua passione ma soprattutto Luca 34enne tra i 10 migliori scienziati al mondo specializzati sulle galassie spera che altri ragazzi possano seguire la sua strada fatta di stelle e perché no anche di sogni Non è una cosa da tutti i giorni se la galassia è come quella che abbiamo scoperto che è una galassia simile alla Via Lattea e l'abbiamo scoperta quando l'universo era molto giovane è una galassia molto distante che ha le stesse proprietà strutturali della nostra galassia e in realtà l'universo è così pieno di galassie che ogni giorno ne scopriamo di nuove e ogni giorno siamo affascinati dalle galassie che scopriamo e da quello che possiamo imparare Siamo molto contenti di avere Luca qui oggi perché dà la possibilità a tutti i nostri ragazzi di vedere che cosa si può diventare studiando appassionandosi dedicandosi ciascuno al proprio ambito e questo è qualcosa che soltanto gli ex studenti che sono passati attraverso queste aule possono trasmettere Dopo la maturità la laurea magistrale in fisica e il dottorato di ricerca in astrofisica all'università di Padova Costantin è stato anche a capo del gruppo di ricerca padovano di un progetto internazionale e ora ricercatore nel centro di astrobiologia di Madrid dal quale sta contribuendo a rivoluzionare la conoscenza delle galassie nell'universo Tutto nasce a Madrid però in realtà è una scoperta e il merito va a 33 e in realtà molti più ricercatori 200 ricercatori in tutto il mondo e la partecipazione italiana si è fatta notare Parliamo ora di Bridge perché il circolo di Mestre è stato premiato a livello regionale per numero di iscritti tra i suoi soci anche degli ultra novantenni ma si punta molto anche sulla partecipazione dei giovani La federazione Bridge settore regionale del Veneto ha premiato il circolo Bridge Mestre per il più alto numero di allievi tesserati nel Veneto è stata una soddisfazione per me e ovviamente per il circolo per tutti Si gioca a Bridge a Mestre e parecchio con oltre 100 iscritti questo circolo è il secondo del Veneto e ospita anche tornei federali nel 1993 il CONI ha riconosciuto il Bridge come attività sportiva uno sport dell'intelletto che richiede studio intelligenza memoria ragionamento abbiamo tre soci che sono over 90 e vengono con una certa regolarità perché il Bridge tiene la mente sveglia Bill Gates che è un giocatore di Bridge circa dieci anni fa sponsorizzò una ricerca al MIT di Boston per far capire quanto è fondamentale imparare a Bridge anche alle persone di una certa età soprattutto se hanno delle malattie per esempio neurodegenerative come l'Alzheimer e hanno scoperto che in effetti concentrarsi giocando a Bridge o a scacchi naturalmente si aumenta la memoria e la concentrazione che sono cose fondamentali per quanto riguarda quella tipologia di malattie il Bridge è comunque uno sport per tutta l'età anzi qui si punta molto sulla partecipazione dei giovani anche attraverso il coinvolgimento delle scuole soprattutto in vista dei corsi gratuiti per principianti che partono dal 31 gennaio ma il Circolo di Bridge di Maestre si propone anche come un centro di aggregazione facciamo anche una volta al mese dei grossi tornei con gente che viene da fuori qui associamo anche delle feste dei buffet giusto per stare insieme per creare la socialità grazie per essere stati con noi come sempre un'occhiata al meteo con le nostre previsioni del tempo arrivederci il piccolo scavo è specializzato nella realizzazione di impianti fognari sotto servizi per utenze e adeguamento fognario alla rete consortile ben trovati al meteo l'anticiclone è ancora bloccato sull'Europa centrale mantenendo salde le radici sul Mediterraneo e condizionando lo stato del tempo sull'Italia caratterizzato da assoluta stabilità vediamo insieme il dettaglio sul Veneto la grafica di mercoledì 31 gennaio evidenzia un ampio soleggiamento tuttavia nelle ore più fredde avremo foschie e nebbie in pianura localmente persistenti e solo in parziale dissolvimento con il passare delle ore le temperature si manterranno invariate minime tra 0 e 1 grado massime tra 7 e 9 gradi ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia anche in questo caso al mattino il cielo sarà in prevalenza nuvoloso con foschie o nebbie sulla bassa pianura e sulle zone costiere a seguire ampio soleggiamento temperature minime tra 0 e 2 gradi massime sugli 8 10 gradi infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige dove sarà piuttosto soleggiato ma con temporanei annuvolamenti specie al mattino temperature minime tra lo 0 e 4 gradi massime sui 13 14 all'incirca dal meteo è tutto vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia il piccolo scavo è specializzato nella realizzazione di impianti fognari sotto servizi per utenze e adeguamento fognario alla rete consortile di impianti fognario Grazie a tutti.